Cosa significa veramente essere umili nella vita pratica? What is the meaning of being humble in the everyday life, in the practical life? What you want from your others? Cosa vuoi da tua moglie? Cosa vuoi dai tuoi bambini? Cosa vuoi dai tuoi amici? Tu vuoi solamente e non vuoi fare niente per loro? Questo è il Conquivus Questo viene da dentro di te, la tua realizzazione viene da dentro Se a seconda di quello che vi esce dal cuore, da dentro, questa è la vostra realizzazione Se questa cosa rimane esterna, se proviene da fuori, ascoltate, sentite e poi vi dimenticate Grazie You will think on this, you will going doing homework Fatelo come compito a casa, pensateci And without homework, we know from childhood, we never do good in classes, we never grow in the class We have not become good students, we don't understand anything Homework is important to do Ah, ecco ho capito Non si può fare solo le cose a scuola Senza fare compiti a casa non si cresce Grazie Grazie I give you homework Quindi vi ho dato il compito a casa Ha 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 Yes Perché non percebiamo questo, perché non lo sentiamo e non lo ricordiamo? Sei vero. Hai ragione. Mi è capitato anche a me. Sei vero. Sei vero. Sei vero. Sei vero. Sei vero. Sei vero. Mi sono relato con Hanuman e Siva, ma in mio templo Radha Mohan non ho una relazione. Mi sono andato a un altro templo per andare a Darshan, Bihariji, altri, altri paesi. Ma una volta mi sono andato a formalità, ma non ho una relazione. Maraj dice che ho avuto una frequentazione di Hanuman, di Shiva, andavo negli altri templi a guardare eccetera, ma non avevo nessuna realizzazione col tempio mio. Tutti i giorni facevo il parikram, prendevo il darshan, prendevo la visione di vari templi, visitavo vari templi. Perchè? 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 Perchè non avevo relazione. Perchè? 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 Io mi sono sorpreso, adesso mi sorprendo. E ora non vado più da nessuna parte, sto solo a Mughermandir. La batteria si scarica anche la macchina, la macchina non va più da nessuna macchina. Perché? Perché a quei tempi non avevo la relazione, ora la relazione ce l'ho e non mi serve fare altro. Dice onestamente che quest'anno non dovevo venire. E se non sono venuto per tutto il tempo, ma credo che è troppo presto per ritirare. Lui dice, insomma, in sintesi, la tentazione sarebbe quella di rimanere lì, però è ancora presto per ritirarmi. Però quando succede la relazione, per grazia del maestro spirituale, allora queste cose diventano bellissime nella vita. Senza relazione non succede niente, te giri, giri come se fossi un turista, ma niente di fatto. Noi diventiamo devoti, ma siamo turisti, non c'è relazione. Questa è la mia idea. E' la mia personale esperienza, quello che ho visto nella mia personale esperienza. Dice, per quanti anni ancora andrò in giro? Dice, quando è che io smetterò i miei tur e svilupperò la mia relazione? Quando è che io smetterò? Quando arriverà quel gioco? Dice, quando arriverà quel gioco? Dice, quando arriverà quel gioco? Io non posso provare. Eh, ci posso provare. No, io non posso, voi provate. Provateci voi, io non ce la faccio. Così voi. Così. Grazie. Voi avete dieci amici, ho visto da qualche parte, avete dieci buoni amici, e arriva questa ragazza col fidanzato, e uno comincia a guardare ma che succede qua? Ah ecco, quando uno di questi dieci amici diventa fidanzato, a causa di questa relazione stretta, lei rinuncia agli altri nove, e così, dice stabilizza il tuo se, e allora finiscono i tour, e se non stabilisci allora i tuoi tour andranno avanti, No no no, now I begin because of summer, everybody is ready to... Vedete? Giudicate voi. Dice io do la colpa a me stesso, non do la colpa a nessun altro. Dice io do la colpa a me stesso, non do la colpa a nessun altro. Dice io do la colpa a me stesso, non do la colpa a nessun altro, e non do la colpa a nessun altro. Dice io do la colpa a nessun altro, e lui dice, per favore beneditemi che sia così, insomma che io sia sempre... E lui dice, senza la misericordia pensa che non possa mai succedere. Quando invece un Vaishnava dà la misericordia e la benedizione, tutto è possibile nella vita.